fiera di san nicola il parere degli ambulanti incidenti all'alba sulla monte labattese due auto e un camion coinvolti ad un anno dall'alluvione il punto il regione su interventi e finanziamenti domani nelle marche il test del sistema di allarme pubblico pinguini tattici nucleari in tour alla vitrifrigo arena il 23 24 aprile 2024 ben ritrovati a tutti voi che state guardando rossini tv questo è il nostro telegiornale di oggi lunedì 11 settembre e proprio in questa edizione andiamo a parlare della fiera di san nicola che è arrivata al suo penultimo giorno e quindi abbiamo catturato alcuni pareri di ambulanti tra i tanti che erano presenti e che sono presenti cioè circa 550 e abbiamo catturato il loro parere per sapere insomma come stanno andando l'affluenza delle persone ma anche gli acquisti vediamo lunedì 11 settembre terzo e penultimo giorno della fiera di san nicola una fiera ormai diventata da tempo tradizione del settembre pesarese 550 gli ambulanti circa a desporre con le loro bancarelle lungo i 4 chilometri della fiera di san nicola noi siamo andati a domandare agli ambulanti un piccolo bilancio su questi primi due giorni di fiera ma noi siamo molto contenti perché tutti gli anni diciamo grosso modo di risultato uguale anzi incremento che diciamo contenti affluenza delle persone molto ovviamente stanno molto attenta alla qualità anche perché abbiamo anche tutto materiale qualità perché tra dei chianti salsiccia di città senese e amburri di canina tutta roba è magari la prodotto la prodotta ha avuto un successo incredibile perché giustamente essendo fiorentini facendo una prodotta di qualità e portandolo a pesa la pesa la prezza insomma è un sacco di gente sta chiedendo questa merce insomma siamo al terzo giorno di fiera come sono andati i primi due ma se essendo sabato e domenica ci aspettavamo qualcosa in più però accontentiamoci intanto le giornate sono belle la gente non lo so 10 euro fa fatica magari vuoi dare uno in più dice no basta così insomma hanno comprato diciamo qualcosa in meno rispetto a quello che erano gli altri anni che compravano di più di tutto diciamo più misurati ecco avete un legame stretto con la fiera di san nicola oppure siete alle prime esperienze no noi veniamo da tanti anni veniamo dalla puglia vendiamo intimo da tanti anni e siccome la maggior parte è merce che si produce da noi la gente torna perché il prodotto che gli diamo è un buon prodotto non ci possiamo lamentare la gente c'è stata tanta ora che compra o meno il nostro articolo però la gente c'è l'anno scorso è stato un po meglio forse perché si mancava da prima dal covid l'anno scorso la gente era più invogliata a comprare noi si vendono solo borse in pelle fatte a firenze tutto prodotto artigianale roba di qualità abbiamo un prodotto molto bello e molto da fiera secondo me perché non c'è bisogno di provarlo di indossarlo se la guardano così un po allo specchio e via rispetto agli altri anni c'è stato più affluenza di gente la gente ha speso almeno per quello che riguarda il nostro articolo ovviamente croccanti avete caramelle di tutti i tipi zuccherate non zuccherate quindi sono sempre andate di moda e la gente si ferma sempre biscotti siciliani abbiamo lamporecchio che sono i brigidini comunque un articolo questo che non passa di moda insomma al di là dei dentisti dei di quello si può dire siete sempre soddisfatti avete un legame particolare con la fiera di san nicola allora fiera di san nicola i gestori del banco la fanno ormai da 30 anni quindi direi di sì insomma sono le ravici e poi vedete soprattutto davanti a voi al di là del bancone famiglia quindi grandi piccini tutti i tipi sono sempre incuriositi e ingolositi da quello che vendete sì 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 non c'è età abbiamo vari tipi di prodotti parliamo dalle spezie a vari tipi di frutta disidratata con zuccoressenza tipi di infusioni che possono essere tè verde tè rosso infusi stessi miscela del benessere e così via la clientela incuriosita e vi domanda anche magari dove possono essere utilizzati in che modo questi prodotti certo chiedono anche dei consigli si affidano a noi noi con piacere siamo propensi a dargli giusti consigli in base alle esigenze del cliente questa fiera risponde sempre bene normale che a volte ci possono stare più o meno affluenza però in grandi linee i risultati si vedono alla fine dei quattro giorni ma siamo soddisfatti non mancano le problematiche sono stati infatti diversi grattacapi sollevati appunto dagli ambulanti per quanto riguarda soprattutto il costo delle postazioni che stanno incrementando di anno in anno se gli ambulanti spendono calcola che 750 euro il mio posto calcola il viaggi il mangiare che cosa fai vieni qua vai dal ristorante tanto comunque ha un costo no quindi cosa succede succede che alla fine della storia poi se c'è un po il maltempo qualcosa tu non hai guadagnato niente è fatto 20 ore al giorno torni a casa non hai più questo 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 questi risparmi che erano per l'inverno perché noi ambulanti quando piove il comune non è che dice ah carlo ha piovuto ti mandiamo 100 euro perché ha piovuto qua ci dobbiamo sostenere negli anni abbiamo abbiamo avuto tanti aumenti che abbiamo avuto e vi dico onestamente che non lo sopportiamo più perché prima un posteggio costava 200 300 euro adesso siamo arrivati oltre 600 euro e io ho due posteggi già sono 1300 poi albergo ristorante prima con 30 euro mangiavi primo secondo terzo frutta gelato adesso ti danno un primo e forse un po di vino forse un po di vino e poi basta quindi non dì che ci dobbiamo mettere anche a dietro per fare le fiere ma quasi poi venire le spese che abbiamo andare tornare anche se un'azienda familiare non è facile recuperare tutte queste spese può anche mettere a rischio la categoria alcuni nostri colleghi sì perché poi giustamente non tutti lavorano con lo stesso margine hanno difficoltà e tutto quanto anche noi comunque subiamo delle difficoltà ma andiamo avanti e speriamo che la categoria si salvi perché una categoria è importante ma sottovalutata ed ora passiamo alla cronaca facendo luce sull'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla monte labattese all'altezza del paese di apsella i vigili del fuoco sono intervenuti verso le 5 30 per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture e un auto articolato la dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine ma le rilevazioni effettuate lascerebbero presagire che la causa dell'incidente sia stata dettata da un sorpasso azzardato la squadra dei vigili del fuoco di pesaro è intervenuta con un autobotte l'ausilio dell'autogru e collaborando con i sanitari del 118 ha estratto il conducente di un'autovettura e messo in sicurezza l'area dell'incidente sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine continuiamo a parlare di incidenti in questo caso un incidente che è risultato essere mortale un incidente che è avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada tra villanova e calcinelli dove a perdere la vita è nilvana sperandio una pensionata fanese di 71 anni che nello scontro con un altro automobile è finita con il mezzo in un dirupo assieme a lei c'era il marito che però si è salvato uscendo dall'auto e chiedendo aiuto lo schianto sembrerebbe essere stato causato dall'altro veicolo una bmw a bordo della quale c'erano tre ragazzi due italiani e un tunisino due di loro sono rimasti gravemente feriti ed è stato necessario il trasporto al nosocomio di ancona un sorpasso pericoloso sarebbe la causa che non ha lasciato scampo alla donna balzata fuori dall'abitacolo dopo che l'auto si è cappottata diverse volte secondo alcune testimonianze i giovani sarebbero stati visti mentre bevevano in un bar di villanova poco prima di mettersi alla guida del mezzo uno di loro sotto shock per l'incidente ha cercato di allontanarsi ma è stato subito trattenuto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco 118 l'eliambulanza e anche i carabinieri ed ora cambiamo di nuovo argomento a quasi un anno dall'alluvione che ha colpito la nostra regione marche lo scorso 15 settembre provocando 13 vittime questa mattina in regione è stato fatto il punto sugli interventi e anche i finanziamenti da mettere in campo nei prossimi mesi a quasi un anno dall'alluvione che ha colpito le marche il 15 settembre 2022 nel quale persero la vita 13 persone questa mattina palazzo raffaello ad ancona sede della regione si è fatto il punto sugli interventi messi in campo finora ciò che è emerso è che sono stati destinati tutti 400 milioni di euro stanziati dal governo meloni per il triennio 2022 2024 mentre parallelamente la progettazione e l'appalto delle opere strutturali complesse per la messa in sicurezza del territorio passa da emergenziale a strutturale questo significa che ci sarà un'accelerazione sui tempi e una minore burocrazia grazie all'approvazione dell'ordinanza del 23 giugno scorso sicuramente le risorse messe in campo dal governo sono risorse che ci consentono interventi di natura strutturale sulle infrastrutture ma non solo con una progettazione diretta per la messa in sicurezza della valle del mese del neola noi avremo sicuramente implementato come avevamo fatto stiamo facendo l'attenzione nei confronti dell'assetto idrogeologico è chiaro che la disponibilità e la quantità di risorse sono un elemento dirimente per tutte le amministrazioni locali le priorità sono quelle che vediamo quotidianamente nel ripristino di una situazione che deve essere in sicurezza le priorità sono nel dare una risposta alle famiglie alle imprese per i danni subiti le priorità sono quelle anche di costruire delle infrastrutture ricostruire delle infrastrutture che possono essere rispondenti ad una mitigazione del rischio maggiore rispetto a quelle che sono esistenti che erano esistenti sul territorio e poi c'è sicuramente la necessità di una manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua che purtroppo per tutta una serie di condizioni che si sono verificate negli anni sono in una situazione che assolutamente richiede un'attenzione particolare c'è stata una prima fase d'emergenza dove occorreva mettere in sicurezza il territorio e ripristinare quanto era stato distrutto dall'alluvione lì ci sono stati interventi per 13 milioni di euro da parte della regione Marche che è stato un intervento molto corposo in quelle primissime ore poi si è cercato di riprendere quello che era lo studio del 2016 che era stato solo dopo l'alluvione del 2014 c'è stato uno studio preliminare che prevedeva una serie di interventi strutturali che solo parzialmente negli anni sono stati realizzati quindi abbiamo ripreso quello studio lo abbiamo ulteriormente ampliato abbiamo provisto quindi la definizione di nuove vasche di espansione oltre a quella di Bettolelle che stiamo diciamo così terminando altre due vasche a monte di Passo Rip e a monte di Pianello d'Ostra già finanziate e per le quali si sta procedendo con la progettazione ma soprattutto in queste ore sono partiti lavori di straordinaria manutenzione all'interno del fiume Misa per 1 milione 800 mila euro in queste prossime ore ma quando dico prossime ore dico domani o dopo domani partiranno altre sei somme urgenze sul fiume Nevola sul fiume Cesano e sul fiume Burano come dire comprendiamo tutto quanto l'alvio di quanto era avvenuto diciamo il 15 settembre scorso domani martedì 12 settembre attorno alle ore 12 tutti i telefoni cellulari collegati sul territorio della regione Marche squilleranno contemporaneamente con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche verrà effettuato infatti il test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che dal prossimo anno informerà la popolazione in caso di gravi emergenze vediamo bene il servizio questo è un messaggio ET alert il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze ora il governo italiano attraverso la protezione civile sta testando ET alert quindi se ricevi un messaggio significa solo che sei in un'area test per fare la tua parte clicca sul messaggio entra nel sito e compila il questionario ET alert il sistema nazionale di allarme pubblico è bene che tutti i cittadini siano informati di questa iniziativa che parte dal dipartimento nazionale di protezione civile è di fatto un test una sperimentazione di quella che si chiama it alert quindi un sistema di allertamento che dovrebbe essere operativo dal 2024 non c'è una data definita anche perché è un work in progress si sta lavorando in questo caso in questo senso infatti quello di martedì 12 intorno alle ore 12 dalle 12 all'una dovrebbe essere fisicamente cosa avverrà avverrà che i cellulari i telefoni di tutti coloro che in quel momento si trovano nella regione Marche quindi non solo i residenti ma anche coloro che sono di passaggio temporaneamente presenti sui nostri territori tutti coloro che avranno il telefono acceso nella nostra regione Marche in luoghi raggiungibili dalla rete avranno un messaggio che è appunto una prova di allertamento poi ci sarà scritto anche che si può collegare a un sito si può anche interagire rispondere diciamo attraverso questo sito dando un giudizio su quello che diciamo è avvenuto questo non è obbligatorio per far smettere il telefonino di suonare occorre aprire il messaggio altrimenti continua diciamo il suono non deve allarmare nessuno è una sperimentazione non c'è nessuna emergenza però è un test che sarà molto utile per mettere invece successivamente probabilmente i primi mesi del prossimo anno in funzione questo sistema che è un sistema di allertamento che non sostituisce i normali sistemi di allertamento di protezione civile presenti già nella nostra regione ma si aggiunge ovviamente interverrà solo nelle aree interessate da eventi particolarmente drammatici ed ora andiamo a vedere lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni la foto che potete vedere mostra ciò che è rimasto dell'atto vandalico compiuto questa notte dove una scritta è apparsa sulla facciata laterale del liceo di scienze umane morselli imbrattamento che va ad aggiungersi a quelli apparsi circa una settimana fa nell'edificio di fronte dove alcuni writers notturni avevano preso di mira palazzo cermatori lasciando sulle pareti diverse scritte interventi di ritinteggiatura riguarderanno ora anche il liceo di viale 11 febbraio che dallo scorso anno è tornato a disposizione degli studenti ed ora spazio dedicato ad alcuni eventi che vi segnaliamo finita la prima parte del tour estivo i pinguini tattici nucleari hanno annunciato questa mattina le nuove date del tour tra i palazzetti d'italia in programma per la prossima primavera riccardo zanotti e il suo gruppo saranno a pesaro alla vitri frigo arena il 23 e 24 aprile del prossimo anno con non perdiamoci mica di vista fake news indoor tour quarta tappa di un viaggio che partirà il 3 aprile da jesolo e si concluderà messina il 29 maggio il 18 settembre visite gratuite di otorino laringoiatria all'ospedale santa croce di fano per un'iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa collo nel 2020 solo in italia a 9.900 persone è stato diagnosticato un tumore testa collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia cifre che fanno di questo carcinoma il settimo tumore più comune in europa con un'incidenza di due volte superiore a quello del collo dell'utero i sintomi dei carcinomi cervicocefalici sono spesso ignorati o associati a malattie sagionali come un comune mal di gola o un raffreddore in occasione del gran premio di san marino e della riviera di rimini in programma domenica 10 settembre a misano come ogni anno in contemporanea è andato in scena anche tavuglia in moto che tra passione per i motori stand gastronomici e spettacoli è giunto alla sua nonna edizione lo speciale che abbiamo registrato con le nostre telecamere andrà in onda domani sera 12 settembre appunto alle 21 e 20 nella nostra consueta prima serata intanto però vi mostriamo un breve estratto tavuglia in moto una festa straordinaria della città di tavuglia la vigilia del gran premio di misano presa d'assalto da appassionati motociclisti turisti chiunque voglia venire qui proprio a vivere questa aria speciale le due ruote appartengono alla cultura del nostro territorio le due ruote a tavuglia hanno trovato davvero un qualcosa in più che chiaramente risponde al nome di valentino rossi che ha condizionato lo sport delle tue ruote per oltre 15 anni e continua a farlo una festa bellissima finirà tardanotte fuochi d'artificio bomboloni buon divertimento a tutti è la non edizione riguardo un po tutti i settori di cui mi occupo dal turismo come promozione turistica a livello nazionale e anche internazionale visto la serata dell'altra sera cultura quindi qui oggi abbiamo alla benelli quindi tutta la storia della benelli oltre che storia a livello motoristico e anche cultura e sport e quindi lo sport qui sta di casa soprattutto tavuglia dove risiedono diversi campioni del mondo e soprattutto tre piloti della moto gp fino a poco tempo fa adesso sono due è un pilota della moto 2 quindi siamo proprio il top cioè non c'è altro paese o città al mondo che abbia tre piloti di questo livello oggi siamo qui a tavuglia quindi quest'idea che avevamo lanciato qualche anno fa come avevo presentato quella legge per far sì che le marche diventassero sempre più una regione che prendesse consapevolezza del valore che ha sia dal punto di vista dei piloti sia dal punto di vista di quelle che è la meccanica a livello internazionale quindi le marche sono sempre più una terra di piloti di motori e iniziative come queste dimostrano che la strada che abbiamo portato avanti quella giusta e chiudiamo il nostro telegiornale con questa notizia che riguarda la presentazione del libro che è avvenuta presso la libreria il catalogo che si trova in via castelvitardo a pesaro presentazione della pubblicazione di pier giorgio pardo dal titolo un gusto superiore allora il libro si intitola un gusto superiore perché in realtà è il titolo di un di un disco fatto da claudio rocchi con paolo tofani tra l'altro per gli amanti di claudio rocchi questo è un periodo di anniversario importante oggi è un anniversario importante anche per gli amanti di battisti quindi comunque c'è questo riferimento al passato claudio rocchi c'è anche proprio in copertina nel libro io ho cercato di fare un percorso dal beat al beat quello inteso proprio come beat del computer attraverso vari modi di esprimere un commento sonoro importante intorno al testo quindi non la solita figura del cantautore che gira tutto attorno al testo ma una forma diversa un modo diverso di fare il cantautore con delle abizioni musicali alte o di sperimentazione ci sono nomi molto conosciuti prima citavo battisti ma c'è anche dalla c'è tantissimo battiato che è un po un altro dei dei nomi che è bello ricordare se si parla di sperimentazione intorno alla forma alla forma canzone però ci sono anche nomi molto sconosciuti e diciamo che ho cercato di fare un percorso che mettesse insieme talenti differenti accomunati però dalla ricerca di profondità e di un'ispirazione un po differente di gusto superiore per dirla col titolo spero che lasci della curiosità della curiosità di andare a fare degli ascolti della curiosità anche di contestualizzare gli autori all'interno di una certa formula di società basata sulla libertà sull'interazione su una grande voglia di dialogare questo mondo oggi in cui si sono alzati tantissimi paletti tantissimi murici e tantissima aggressività questi sono dei musicisti che hanno creduto e credono tuttora di poter fare dell'arte una forma di libertà espressiva e di ricerca e poi la libreria del catalogo che è una libreria che appunto si ispira un po al al catalogo rossignano madame nel catalogo e questo però anche proprio il catalogo del libro che si presenta insieme ad altri libri anche il mio in fondo è un catalogo di musicisti accomunati da una certa autoralità non dimentichiamo che è del territorio anche la casa editrice che pubblica il libro eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma continuate a stare su rossini tv perché questa sera così come i prossimi lunedì vi mostriamo un saggio di danza in questo caso è un musical della scuola dancing music production musical center quindi una scuola specializzata proprio nei musical e che ripropongono questo musical famoso school of rock il musical appunto con la regia di daniele targhini quindi non perdetevi questa bellissima prima serata di questa sera e domani torno con voi alla segna stampa quindi vi aspetto in diretta alle 7 20 è in diretta sul canale 80 sulla nostra pagina facebook sul nostro sito oppure sulla nostra applicazione che vi consigliamo sempre di scaricare ecco infatti la nostra applicazione gratis potete avere rossini tv sempre a portata di mano quindi ecco l'invito è quella di usarla perché veramente molto molto comoda adesso invece andiamo a vedere come sarà il tempo per i prossimi giorni se continuate a seguire rossini tv e buona serata grazie a tutti i prossimi giorni